Questa mattina il presidente della provincia, Gianni Florido, ha formalizzato le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Taranto. Gli subentra in aula Giovanni Esposto. La decisione di Florido deriva dallo stesso decalogo da lui varato in provincia, che invitava chi occupava due cariche o chi si fosse candidato alle amministrative ad abbandonare eventuali altre cariche detenute in provincia. Così fece Vito Miccolis che, in quanto candidato sindaco a Massafra, lasciò la carica di assessore al lavoro. Florido, dimettendosi da consigliere comunale, posizione acquisita come candidato sindaco nelle ultime amministrative Tarantine del 2007, afferma che intende contribuire alla moralizzazione della vita politica. La decisione di lasciare il mio posto occupato a Palazzo di Città, aggiunge, risponde all'esigenza, più volte evidenziata, di non occupare contemporaneamente più incarichi istituzionali. Gianni Florido si è dimesso ora perché ha accolto l'esplicita richiesta del sindaco Ezio Stefano di attendere l'approvazione del binancio avvenuta qualche giorno fa.